Continuano a pieno ritmo i viaggi dei migranti verso le coste italiane, in particolar modo verso Lampedusa. Continuo e incessante anche il lavoro della Guardia Costiera, impegnata in continuo operazioni di salvataggio. Un gommone in difficoltà con 84 migranti, tra cui 17 donne, è stato soccorso dopo una segnalazione alla Guardia Costiera che lo indicava alla deriva a circa 120 miglia da Lampedusa. Il gommone, di circa 10 metri che rischiava di affondare, è stato subito raggiunto da due motovedette e da un mercantile in transito. Successivamente è stata dirottata nell'area anche una nave della Marina Militare. Viste le condizioni dell'imbarcazione, i migranti non appena raggiunti sono stati subito trasferiti sulle motovedette dei soccorritori che li hanno trasportati fino all'isola di Lampedusa. Diversa la situazione dell'imbarcazione, con 203 migranti a bordo, intercettata dalla Guardia Costiera mentre stava attraccando nei pressi del porto di Lampedusa. Sono stati subito allertati i carabinieri che hanno intercettato i migranti a terra, evitando che si risperdessero sull'isola.